E sarebbe lui quello che può dirci se il nostro affare andrà bene? Sì, proprio lui, il santone. Beh, allora chiediamoglielo subito. A me questa musica, tutte queste candele mi fanno una certa impressione, sicuro. Ma non può sapere ancora nulla. Lo spirito entrerà dentro di lui e parlerà per bocca sua, ma potrà entrare anche dentro qualunque altro se lui lo vuole. Stai calmo. Gli ho parlato del nostro affare per avere la risposta. Ah, ecco. E' dominato dallo spirito di Oxossi. Ma che cosa gli ha preso? Perché fa così? Sembra che fatichi. Traballa come uno che porti un peso. Perché Oxossi, per purificarlo e far sì che sia degno di conoscere la verità, ha fatto entrare in lui l'anima di Cromado. Carlo, su, caro, sveglia, sveglia. Che succede? In te è entrato lo spirito di Cromado. Ui, che male. Non sai quanto sei fortunato. Grazie, grazie mille. Allora, che cosa ha detto Oxossi? Ha detto... Che cosa? Ha detto che tutto andrà... Sì, ma come andrà? Bene, male? Che tutto andrà come deve andare. Ah, magnifico, splendido. Grazie.